La mia madre di Dio prega per voi peccatoria, sei il solito della nostra morte a me. E' un litro, la mia madre di Dio prego. E' un litro, mi sbaglio tutto in casa. E' un litro, mi sbaglio tutto in casa. Perché ti mi faccio anche? Io ti voglio fare fuori. ecco cosa fa l'unico non sono due barri di patto tu sei qui tu hai posto di poca sei più bello perché mi hanno sempre la faccia si fa papà io non sono due barri di patto ma io non sono due barri di patto io non sono due barri di patto Parola. Chi è se vuole un'acqua? Ma... La figlia? Che cazzo, se lo chiamo d'ahì purlo, stasendo anche a Pasquillo... ... 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 Aspetta un attimo, voglio passare il segno. In questo detto giorno di festa noi, tuoi figli, ti auguriamo una felice e buona Pasqua. Dopo quattro anni questa è la prima festa che facciamo tutti uniti e ci auguriamo che dopo di questa ne seguiranno molte altre. Con l'affetto ti facciamo ancora tanti auguri e ti auguriamo tanta salute ai tuoi figli. Auguri da Maria, Tonino, Lucia, Rossella, Luino, Anna, Nicola, Diego, Bruno, Anja, Madre, Sanna Maria e Cosimo per il papà. Tanti auguri. Tanti auguri. Dai le mani al nas e ditela bene, tutte e due. Ai miei nonni va sul fiore, ai miei nonni tanto amore, tanto amore che parla e dice che i miei nonni sia felice. Tanti auguri e buona Pasqua. A casa, a scuola, voglio essere nuova. Questa professa è il comitore così vedrete il grande amore che la vostra piccina vi porta nel cuore. Grazie a tutti. Sornate campanee, tornate campanee, tornate in stella, per il mondo intera per scegliere, anche a mille buona Pasqua. Grazie a tutti. 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 Una papà in donne i fiori. Ogni giorno mi sembri un mese. Vorrei avere le albe per volare. Accanto a mio marito vorrei stare. Mario, Nicola, non li... non mi viva si è emozionata si è emozionata su, che faccio non mi arrangirai io giunto nell'altro arriverò ma c'è bella credo sono andata dimanche che è una poesia si è andata si è andata ho visto qua la legge grazie! Sì, c'è una buona. 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 C'è una buona.